se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bentornati raga qua è savix che vi parla e volevo fare anche tanti auguri a voi streghette se c'è qualche femminella che guardi i miei video allora ragazzi oggi è il 31 quindi rockstar ci ha regalato il completo da sosquash come cazzo si chiama da scimmione quell'affare là quindi non vi resta altro che andare nel vostro appartamento andare su completi, completi speciali ragazzi e andarci a indossare sto cazzo di completo che è bellissimo lo scimmione del secolo ragazzi guardate quanto è bello però savix è riuscito a distruggere pure questo completo perché io su questo account raga c'ho il magic slot negli outfit ho provato a metterci il magic slot per passare i loghi su sto cavolo di completo ho detto minchia se passa i loghi viene una figata li mette i loghi raga ma guardate come poverino diventa diventa orribile sembra che ci abbia qualche malattia a venere perché diventa pelato guardate che brutto guardate cosa succede è una cosa oscena peccato però si intravede che c'è qualcosa sotto nella gamba, nel petto ma non si vedono comunque se volete sboccare sto cavolo di completo vi ho fatto vedere è semplicissimo andate solo a mettervelo e ve lo selezionate e così ce l'avete raga io spero che il mio video vi piaccia lasciate un like, lasciate un commento supportate Savixi condividete i miei video iscrivetevi su telegram, su instagram, su twitch da tutte le parti raga e niente io vi saluto passate buon anno ci rivediamo raga fra qualche giorno quando mi riprenderò perché stasera sarà tragica forse vi farò vedere qualcosa farò una live in diretta dove sono cosa sto facendo e perché lo sto facendo bella raga alla prossima